ciao a tutti i pastizioni e bentornati nella mia cucina oggi voglio giocare facile ho deciso di preparare la ciambella vaniglia e cioccolato però quella che si trova direttamente dentro il bimbi ossia nella cucchia del bimbi quindi voglio giocare facile non è una mia ricetta però se volete replicarla sia che avete il bimbi sia che non avete il bimbi è facilissimo ok vediamo la ricetta benissimo abbiamo montato le uova con lo zucchero a questo punto il bimbi ci suggerisce di accendere il forno a 180 gradi e imbordare uno stampo da ciambella da 24 cm quindi togliamo la farfalla e proseguiamo con la ricetta grazie a tutti 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 grazie a tutti